ben tornato sul canale oggi parleremo della classe del healer questa classe è quella che ho scelto quindi iniziamo subito col vedere come andare a sistemare un po le nostre skill dunque ragazzi io ho ancora qui cinque punti da andare a distribuire vi ho spiegato già come andare a mettere i punti qui nelle statistiche e io direi che le due statistiche principali per quanto riguarda la classe del healer sono dexterity e wisdom quindi vedete che adesso andiamo a mettere due punti in dexterity un punto in wisdom e poi percezione quindi abbiamo finito direi così per il momento poi magari se avrò dei problemi lo vedremo i punti come avevo spiegato poi si riusciranno ad aumentare anche grazie al equipaggiamento skill che sono la cosa più importante per questa classe e io ho preparato due slot vedete qui sotto il gioco ci dà la possibilità di creare più slot dunque allora nel primo slot io andrò a mettere le skill di cura e nel secondo slot ho messo quando andrò a fare le missioni in solitaria e quindi dovrò fare danni dunque parliamo subito delle skill di cura che credo che siano quelle che più ci interessano dunque allora abbiamo la prima skill che è la sweet healing e questa qui praticamente è la nostra skill a cura singola quindi la dovremo andare utilizzare sul party in particolar modo sul tank poi ovviamente quando altri del party perderanno vita andremo utilizzare sulla persona poi abbiamo questa la clay salvation questa è la nostra skill away vediamo se ve le faccio vedere anche come funzionano magari da lontano ecco allora schiacciata questa vedete che fa una grande area e va a curare tutti coloro che sono dentro quell'area lì poi abbiamo questa qui che è la fountain of life questa skill si prende a livello 50 questa qui ci da sia il mana quindi a tutti coloro che si trovano dentro questo cerchio verde vedete da sia cure che mana quindi è importante che tutti i membri del party la vedano per terra e si fiondino dentro oppure posizionarla in un punto dove più o meno ci sono tutti poi abbiamo una tour blessing questa qui è una skill away quindi quando andiamo utilizzare va a toccare tutti i nostri membri che sono all'interno dei 16 metri quindi la skill away abbastanza ravvicinata e ha una durata minima perché dura soltanto quattro secondi questa skill ci permette sia di andare a togliere un effetto negativo ma anche andare a incrementare la rigenerazione della vita di 530 ma anche la rigenerazione del mana di 840 poi un'altra skill importante da andare utilizzare quindi queste qui sono le principali che andremo a utilizzare poi abbiamo queste qui che fanno danno quindi vanno a togliere degli effetti vedete negativi e fanno anche poi un certo danno e sono queste qua queste quattro uno due tre quattro questa è una skill che si va a prendere a livello 50 e quindi praticamente fa danni quindi queste qui sono tutte skill di danno e questa qui è la skill che ci produce invece un muro questa qui assorbe il danno del 456 per cento in base al danno più fa 222 di danno quindi praticamente fa una specie di muro dove poi il danno rimbalza e lo va a ributtare addosso al mob poi un'altra skill di cura da andare a utilizzare è questa qui questa qui è una skill che praticamente appunto come dicevo cura non tantissimo ma la possiamo andare a utilizzare per tre volte ed è una skill vedete a tempo non so se si riesce a vedere però vedete che escono i numeretti un po' per volta come vi dicevo la possiamo utilizzare a tempo e vedete che anche il condao è molto basso rispetto alle altre allora questa anche la possiamo fare per tre volte e questa la riusciamo a velocizzare quindi a portarla tre volte perché andiamo a mettere alcuni punti adesso ve li faccio vedere e sono questi qui vedete la sweet healing se noi andiamo a mettere il punto qua ci dice che la possiamo usare tre volte e questo per me è fondamentale andare a mettere questo punto per quanto riguarda questa skill io ho preso la fontana della vita non ci avevo messo ancora questi punti e vi ricordo che questi punti poi ogni volta si possono andare a togliere e cambiare quando vogliamo quindi andiamo a metterne tre addirittura ed è molto importante andare a utilizzare questa skill perché è una skill a oe che come vi dicevo prima ci dà sia il mana che la vita vedete che andando a mettere queste tre skill facciamo sì che abbia più mana recovery il radius quindi il raggio è più grande e anche l'effetto va ad aumentare passiamo all'arco e andiamo qui l'avevamo già messe anche qui andiamo a metterne due poi la skill singole quindi la rotazione è andare a utilizzare per tre volte questa sul singolo soggetto utilizzare poi velocemente questa qui di gruppo che però ha un pochino un contatto lungo e poi andiamo a mettere questa terra nel caso poi andiamo subito a rifocciollare diciamo così il mana in modo che così in questa maniera tutti quanti possono usufruire del mana questa skill è abbastanza interessante perché concede praticamente una barriera benedetta che va a aumentare le difese magiche quelle a corpo a corpo e a distanza di un qualsiasi alleato ovviamente si intende per alleato un membro del nostro party di 1820 e dura 6 secondi inoltre la barriera aumenta le cure ricevute del 42% quindi questo è molto importante da andare a utilizzare prima di andare a curare in modo che così curiamo molto di più inoltre la barriera aumenta le cure ricevute del 42% durante il giorno e aumenta le resistenze magiche corpo a corpo e a distanza di 420 invece durante la notte nei primi due secondi l'effetto è di due volte maggiore della quantità base poi la build che sto seguendo è la stessa build che potete trovare anche su max roll poi la metterò magari in link in descrizione per quanto riguarda i vestiti dovete dare assolutamente la precedenza ai vestiti che contengono voci come mana, mana regen, max mana insomma quelli lì hanno la precedenza però non sempre riuscite a trovarli perché la maggior parte di quelli tra virgolette buoni o anche meglio ottimi li trovate nei drop dei dungeon oppure nei world boss drop insomma quelli che si possono craftare non hanno sempre appunto queste statistiche ricordatevi comunque le vostre statistiche base sono dexter e wisdom quindi date precedenza a queste due prima il mana e poi queste due una nota importante è anche per quanto riguarda le skill che sono queste qui quindi le skill passive perché vedete andando a portare questa qui per esempio questa qui con l'occhio andiamo a incrementare per esempio le cure del 22% e vanno anche a ridurre le passive il cooldown che è una cosa estremamente importante da andare ad avere quando avete in mano un curatore quindi poi abbiamo poi i punti questi qua e però comunque poi io ancora non l'ho distribuiti quindi vi consiglio di andare a perfezionare la build guardando appunto quella di max roll allora ora vediamo come fare danno intanto andiamo a utilizzare questa skill che si prende al livello 50 come prima perché comunque è quella che fa più danni allora dobbiamo avvicinarci finché le nostre skill non si vanno a illuminare dunque attacchiamo vedete fa un raggio che toglie la vita cerchiamo di staccarci poi in modo che utilizziamo questa che vedete che va a togliere una potenza di qualcosa questa il libro e poi utilizziamo quelle dell'arco quindi le due le frecce ora andiamo a mettere sotto il mob questa più gialla alla correnza ci andiamo a dare una curata nel caso in cui il combattimento fosse lungo mi ricordo di andare a utilizzare questa in modo da recuperare il mana se non ce l'avete ancora utilizzate la fogliolina che ci da sempre un po di mana quindi così ci siamo ben rifullati e pronti per affrontare un secondo mob e così via dunque ragazzi poi è importante portare tutte le skill vedete che avete in barra allo stato viola ma adesso vi farò vedere poi quali dovete portare o meglio a quali skill dare la precedenza per andarle oppare tutte queste skill che vedete qui in questa immagine da verdi le dovete portare a viola al massimo ovviamente ok ragazzi oggi abbiamo finito qui se avete le domande fatele qui sotto nei commenti mettete un bel mi piace e come sempre se ancora l'avete fatto vi invito subito a iscrivervi al canale perché arriveranno nuovi interessantissimi video ciao 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 ciao